Gentili telespettatori, buona giornata. Il capitano leghista e il capitano rossonero Berlusconi sono stati beccati allo stadio, in tribuna San Siro. Più sotto vedete Marta Fascina, la quasi sposa seduta di sotto. Il leader Forza Italia di nuovo a fianco di quello della Lega, dopo l'endorsement al quasi matrimonio con la Marta, uniti dalla passione per il Milan e dall'obiettivo di arginare Fratelli d'Italia, Salvini volteggia intorno a Berlusconi. Qualcuno gli fa, ma perché volteggia? Volteggia aspettando che Berlusconi gli regali Forza Italia, che gli dica sì dai fondiamoci, tu che sei un amico, cribio. Ecco, Salvini perché gira intorno a Berlusconi? Mica perché è amico. Gira intorno a Berlusconi perché vuole realizzare la fusione tra i due partiti per tentare di diventare il capo di questo nuovo partito che secondo lui diventerebbe il primo partito italiano. E così sarebbe di nuovo il Salvini candidato a fare il premier. Allora a quel punto farebbe cadere subito il governo, veloce alle elezioni, che diventò premier. Il premier di tutti gli italiani. Beh, lui pensa che succederà questo, ma in realtà no, non sarà primo partito anche se si fondono, perché come diceva Bossi, in una fusione due più due non fa quattro, ma fa tre. Si va a perdere un bel po' di elettori. E quelli che si perdono vanno dalla Meloni, quindi il primo partito è difficile che lo diventi. E ovviamente Salvini gira intorno a Berlusconi aspettando perché poi l'accordo quale sarebbe? Berlusconi segretario di questo grande partito e Berlusconi presidente onorario, simbolicamente presidente di questo partito. Berlusconi e San Siro per assistere alla sfida tra Milan e Bologna. L'ex patron rossonero si è scomodato, anzi si è accomodato, in tribuna pochi istanti prima del fischio dell'inizio della partita, seguito dalla compagna. Ma a fianco del leader di Forza Italia è arrivato anche quello della Lega, Matteo Salvini. Un tandem politico che sembra consolidarsi. L'obiettivo è quello di arginare Giorgia Meloni, fondere i due partiti. Salvini è stato invitato al taglio della torta dicendo Matteo Salvini è un vero amico ed è l'unico vero leader politico in Italia. Dovrei smentire in questa frase due cose. L'unico vero leader politico in Italia direi proprio di no. Lo tenderei completamente ad escludere. Che sia un vero amico di Silvio io lo tenderei ad escludere. Così. È una mia opinione. Secondo me Salvini è lì solo per opportunismo politico. Però magari mi sbaglio e magari Salvini ha questa grande amicizia con Berlusconi, non gli interessa niente fondere e fermare la Meloni. No, è lì così. Sì, credo di non sbagliarmi ma posso anche sbagliarmi. Berlusconi aveva già assistito alla sfida contro l'Udinese terminata in pareggio. Il Milan è obbligato a vincere per rispondere ai successi delle dirette rivali per lo scudetto Napoli e Inter. I rossoneri questa sera contro il Bologna indossavano la nuova quarta maglia della prossima stagione con l'effetto strappo per le strisce rossonere e il bianco. Ma prima dell'intervallo della partita il tandem di centrodestra si è trasformato in un trio. Ancor più curioso. C'era anche Romano Prr, Romano Prr, Romano Prodi, tifosissimo del Bologna. Ma porca Eva che mi cadono tutte le cose. Questo è perché critico Salvini e allora mi cadono le cose. Romano Prodi, tifosissimo del Bologna. Al fischio finale 0-0 tutti contenti, nessuno sconfitto. Vabbè, insomma. Quindi questa foto fatta insieme al partitone, che cos'era? Un messaggio per Giorgia Meloni? Beh, Giorgia Meloni di questi messaggi ne ha visti già fin troppi. Beh, ovviamente non avrebbero invitato Giorgia Meloni a vedere Milan, Milan, oh... Non l'avrebbero invitata a vedere la partita. Però, però, questo ritrovarsi ogni dieci giorni è perché Salvini sta sperando che Silviuccio gli dica senti Matteo, dai allora io faccio il presidente, tu fai il segretario, fondiamo subito sti partiti e Salvini tirerebbe subito fuori, c'ho già il logo, eh? L'ho già depositato. Prima gli italiani, eh? Ed è anche col colore blu di fondo, come il tuo Forza Italia. Possiamo sempre chiamarci, ci potranno sempre chiamare gli azzurri, non c'è niente di verde, eh? Gli azzurri, prima gli italiani, un nuovo partito dove Salvini si libererebbe del nome Lega, si libererebbe di Albertino da Giussano, si libererebbe di quel Salvini Premier nel nome del partito che veramente è di cattivo gusto, no? Lega Salvini Premier, no? È un po' come se Giorgia Meloni scrivesse Fratelli d'Italia Meloni Premier. Sarebbe tristissimo, infatti non l'ha fatto, ovviamente, 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 quindi... È così, il Salvini ogni due per tre va dal Silvio, perché? Per i consigli che gli dà? No, è perché sta aspettando che Berlusconi gli dica, allora ci fondiamo. E Salvini partirebbe perché ci sono le elezioni, ci sono le elezioni a marzo del prossimo anno, si è già votato. Salvini ha bisogno di rifarsi l'immagine. Prima gli italiani, un partito blu con Salvini presidente, come dire, cari forzisti, cari votanti di Forza Italia, non scappate perché c'è Salvini, perché il Berlusca l'è sempre lì, a Milano, è il presidente del partito. Quindi il tentativo di frenare poi i forzisti che non vogliono diventare leghisti sarà quello di dire, ma guarda che Berlusconi è il presidente del partito, quindi tranquilli, è sempre Forza Italia, c'ha il fondo blu, prima gli italiani, io faccio solo il segretario di tutti. Ecco, questa è l'idea salviniana. L'idea salviniana. Quindi qui l'importante non è il fatto che non hanno invitato la Meloni, perché non aveva senso invitare a Milano la Meloni a vedere la partita del Milan. Loro due, che sono tutti e due lì di Milano. Ecco, però questo fatto, questi incontri fatti a distanza ravvicinata, fanno capire tutta l'opportunità politica che vede Salvini nel Cavaliere. Ma il Cavaliere non cede. Per adesso gli fa capire di sì, ma poi non fa mai il passo finale. Ma io la vorrei proprio vedere questa fusione. Sarebbe veramente divertente vedere la fine di Salvini della Lega, perché questo si tratta, la fine ingloriosa di lui e il suo partito. Arrivederci a tutti e grazie.